Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo su Gierp signori un giochino che io ho cercato tanto su internet e ho faticato a trovarlo ma grazie alla mia community sono riuscito a capire qual era il titolo di questo giochino signori siamo su Gierp, in cosa consiste questo gioco? questo gioco consiste nello scalare una montagna appena noi cadremo dalla scaletta praticamente dovremmo scalare questa montagna premendo sulla tastiera del nostro computer le lettere che ci sono negli appigli attaccati nella parete quindi dovremmo riuscire a cercare di salire ma prima di partire dal video signori io vi ricordo di iscrivervi al canale vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date al canale a questa serie perché questo andrà a finire nella playlist dei giochi ignoranti signori se volete altri giochi ignoranti ditemelo, iscrivetevi nei commenti e suggeritemi dei giochi vedrò di accontentarvi vi ricordo di seguirmi su social, mi trovate come Maullo941 sia su Facebook che su Instagram in cui vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live e in descrizione trovate i link sia per donare che per abbonarvi che i link dei canali abbonati che quindi potete fare un salto anche da loro per vedere i loro contenuti detto questo signori, dopo tutta questa manfrina delle chiacchiere partiamo con il video ok signori, allora, l'ho spiegato prima dobbiamo semplicemente tenere premuti sulla tastiera le lettere che vediamo quindi per esempio se io premo M, lui tira lì ecco vedete, ed è caduta la scala il problema è che l'acqua sale in tutto questo dove sta la F? riesce a P, A, F ok, stiamo salendo signori riesce a prendere la T la T, la T zio, la T dai allungati, allungati aspettate, mi do uno slancio mi do uno slancio la T la T, la T, la T, la T, la T acchiappala zio che c'hai le unghie corte acchiappala mannaggia di una miseria mannaggia di una pupazzambria acchiappala oh, l'avevo presa mannaggia acchiappala oh, perfetto ok ora potremmo andare sulla U ma qual' devo mollare? no, la U non ci posso arrivare mai come cazzo se io mollo questo e attacco questo la U ci riesce ad arrivare alla U forse la U, la U, la U no, la N è più facile signori, ma voi non capite come ci ho intrecciato le dita ok è qualcosa di difficilissimo no, l'ho mollato signori allora, ci sarebbe da mettere ci sarebbe da mettere le fotografie su le mie dita nella tastiera è qualcosa di assurdo allora partiamo con una M facile una M facile ok abbiamo mollato la scala andiamo con la F ok lascia la M e prendi la T ok riesce a P alla T ok non prendermi più la T prendimi la D ok la D è più facile poi lasciamo questa e prendimi la T ok la T devi arrivarci di zio ok e la U dove ce l'ho? la U ce l'ho qua quindi se lascio questa e chi appo questo la U dovrei arrivarci no? allungati e allungati zi allungati 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 aspetta devo coordinare il movimento ok ok perfetto ora io che lettere sto scherzando devo levare questo e acchiappare ma come è messo male signori siamo a 2.4 metri riesce a prendere perfetto ora dove prendere la E riesce a darti uno slancio fino ad arrivare alla E dai 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 ok signori la S è indossata la S sta qua sotto quindi se lascio questo forse riesco a cliccare la S così ci arrivi zi? la I la I è più facile la E è più facile no eravamo riusciti a fare uno slancio bellissimo va bene la S con questo riesco a prenderla però dai 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 ok perfetto la C la C riusciamo a prendere la C se andiamo a voi siamo a 5 metri signori no la C è troppo la C è distantissima no andiamo sulla V andiamo sulla V dai zio dai zio rotati rotati zio rotati zio oh devi girarti zio devi arrivare oh bravissimo che posizioni strane che sta raggiungendo il nostro tizio che cosa c'ho io S che posso mollare e prendere una X semplice ok anzi più che la X scusa posso prendere la K riesci a pigliare la K dai zio allungati allungati tutto allungati eh superman ma porca miseria allungati zio dai che ci arrivi allunga quel cazzarolo di braccio e allungalo e dai ma perché si mette così tutto torto aspettate facciamo no non ci arriva cioè ma dici davvero che non ci arrivi e io da qua dove devo andare scusatemi se non arrivo alla allora scusate aspettate un attimo allora riprendi la X riprendi la X ok ora lascia la V e andiamo sulla K zio dobbiamo arrivare alla K in qualche maniera devo poter arrivare alla K dai arriva alla K no sta K che non vuol collaborare alla K signori allungati fino alla K allora stiamo calmi eh no torniamo sulla V piccoli problemi tecnico-tattici e e mo io che faccio eh devo riuscire ad arrivare alla K per forza devo riuscire ad arrivare alla K per forza riesci a tirarti tirati su mannaggia ma perché si tira così oh finalmente ok la K ce l'abbiamo ora lascia la V e prendila no ma porca ero riuscito a prendere la K acchiappala 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 oh perfetto ora devo lasciare questo e prendere la H dai 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 stilati stilati tutto no me se sono intrecciate le dita signori me se sono intrecciate le dita malamente allora stiamo calmi peccate erano arrivati a quanto? 7.8 metri non è niente male 7.8 metri allora ripartiamo con l'emmetto come dito mettiamo questo che sembrerebbe più facile ok poi andiamo sulla F ok poi andiamo sulla devo lasciare la M e prendere la T dai zio dai che la T è semplice acchiappala dai che la T è semplice acchiappala acchiappala non è bellissimo dire questo acchiappala così riesci ma perché sta così? devi semplicemente riesci a più a quello oh dai dai acchiappala ma porca oh finalmente ok ora mi prendi la N cosa devo lasciare io adesso? devo lasciare questo ok prendimi la N la N è facile ok prendimi la P aspettate devo fare un attimo dei discambi veloci ok abbiamo la P devi prendere la S come ci arrivo io a P a premere S signori come cazzo ci arrivo? dai 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 allungati 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 non così allungati 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 un poco meglio mamma mia perfetto ok ora aspettate devo cambiare le dita nella tastiera c'è da incrociarsi le dita in una maniera terribile ok ok cosa devo lasciare io? la S ok riesco a prendere la secondo voi? è difficilissimo riesco a prendere la se lui riuscisse ad allungarsi quel tanto che gli basta no non ce la fa non riesce ad allungare quel cazzarola di braccio c'è la standard la lunghezza del braccio va bene allora andiamo sulla C la C la C deve riuscirla a prenderla la C deve riuscirla a prenderla se no noi rimaniamo qui bloccati tutta la giornata riesce a prendere la C riesce a prendere la C e no c'ero quasi riuscito c'ero quasi riuscito dai 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 con lo slancio ma perché? dico hai le braccia più lunghe del mondo e non riesci a prendere una lettera ma secondo voi se mi lancio come faccio io? perché dico io queste cose complicate? allora ripiglia la S ripiglia la S ripiglia la perfetto ok come faccio a prendere la C la S allora lancia la S no ho lasciato tutto no ho lasciato tutto perché ho lasciato tutto? riproviamo un'ultima volta signori riproviamo un'ultima volta allora cambiamo percorso scusate M ok F va bene F D devo lasciare la M P alla D ok D vada devo lasciare la F che dovrebbe essere questa e prendo la T perfetto dalla T lasciamo la D e prendiamo la U riesci ad allungarti fino ad arrivare alla U zio non è difficile acchiappala 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 perché non perché ha problemi di O U fino alla P l'hanno arrivati mannaggia ok ora ora devo lasciare devo rilasciare questo ok cambio rapido di dita e pigliamo la P la P è facile la P ok ora devo lasciare questo ok e vedere se riesco a prendere la X ok la X la teniamo la tenuta e pigliamo la Y riesci a pigliare la Y zio ok ehm cosa devo lasciare adesso devo lasciare la X la X per prendere la Q dai dai allungati 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 e piglia sta cazzo mannaggia non è difficile e pigliela e pigliela la Q dai pigliela c'erano quasi c'erano quasi perché non riesco a farlo dondolare giusto c'è un metodo per farlo dondolare giusto signori perché non riesco a dargli lo slancio giusto non alza nemmeno la mano ah no scusami la W scusa S dove sta la Q ah qua ok dai 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 quel piede è terribile dai è capo ok ce l'abbiamo fatta ora lasciamo questa e pigliamo la C perfetto ok ora dovremo andare a prendere la B quindi la B è qui dai 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 che ce la fai ragazzo dai che ce la fai ragazzo credici 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 ok perfetto la B qual è questa perfetto cambio di dita rapido rapido e pigliamo la L dai 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 è lunga quelle unghie mannaggia ok abbiamo dato un calcio a un piccione va bene non fa nulla i piccioni sono cattivi lasciamo la B e pigliamo la R ok siamo a 9 metri 05 signori e adesso che cazzo la facciamo c'è un piccione che rompe i coglioni e leviamo la L e cerchiamo di puntare alla N in modo tale da far volar via il piccione ok adesso dovremo puntare alla F ho le dita incrociate malamente signori quel piccione sta rompendo semplicemente le scatole riesce ad arrivare alla F zio riesce ad arrivare alla F non riusciremo mai ad arrivare alla F da questa posizione non ci arriveremo mai alla F allora torniamo sulla L stiamo calmi torniamo sulla L perfetto torniamo sulla L e cerchiamo di andare sulla D mi dite come faccio aggiustarmi aspettate signori io ora quasi quasi mi lascio andare uh ero quasi arrivato alla F alla F aspetta 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 F F forse da qua ci possa arrivare alla F signori forse forse se lui si slangia giusto dai 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 no l'avevo quasi presa ma nel leva di piccione no no il piccione sull'F no il piccione sull'F no non l'avete più lui R e che sto a fa e che sto a fa non è mi posso lanciare potete lanciarmi potete tentare un volo signori male che vada puntiamo alla O male che vada puntiamo alla O signori tra 3 2 1 H si vola oh no abbiamo fatto 9.7 metri signori allora come primo tentativo secondo me è andata abbastanza bene allora io per questo video mi fermo qua se volete altri episodi di GIRP fatemelo sapere io vi ringrazio per aver guardato questo video vi ringrazio per il like per i commenti per i suoi genitori e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao